Ruspa è a lavoro per tutta la giornata in via Mottinello al confine tra Rossano e Galliera dopo il maltempo di lunedì sera che si è abbattuto con inaudita violenza a macchia di leopardo anche nel nostro territorio. In questa arteria a cavallo tra due province si sono vissuti momenti di paura e per un soffio non si è verificato il peggio. Guardate queste piante sul ciglio della strada sradicate dalla potenza del vento e dalle raffiche di pioggia, crollate sul fossato e sul campo portandosi dietro un pezzo di carreggiata, 150 metri d'asfalto franati nella roggia. Una scena terribile ci racconta chi ha assistito alla scena e punta il dito contro il passaggio continuo di mezzi pesanti. Un momento terribile, un po' strano anche perché continuava a girare. La pianta è stata sradicata? Sì, sradicata, sollevata da terra, si è tirata dietro anche la strada. Non va bene, passano i bilici che trasportano di tutto, quindi sovraccarichi, sovrappesi e prima o poi succede. Sul posto il sindaco di Galliera, Italo Perfetti e l'assessore al sociale di Rossano Veneto, Marco Zonta. Pensavamo che fosse tutto molto limitato, appunto a un po' di vento e a un po' d'acqua, invece poi quando siamo venuti qui verso le 10 e mezza a fare un po' di verifiche abbiamo visto l'entità del danno che insomma è sicuramente notevole. Galliera e Rossano stanno lavorando per mettere in sicurezza la strada? Per due giorni strada chiusa. Ah, chiusa proprio? Sì. E il discorso dei camion, perché c'è chi ha lamentato la forte presenza di mezzi pesanti su questa arteria stradale? So, in questi due anni che sono come sindaco stiamo facendo anche una collaborazione con Rossano Veneto per vedere questa viabilità. E sempre a Galliera, danni al parco di Villa Imperiale ancora tartassato dal maltempo. Anche questa volta è stato colpito, la prima volta ne hanno radicato 27 alberi, questa volta altri 7 che superano i 100 anni di vita. Grazie a tutti.